Ciao, sono Nicolò e lavoro nell'agenzia di comunicazione come social media manager e project manager. La cosa che mi è piaciuta di più del corso di Massimo Petrucci è il fatto che ti accompagna dalle basi fino al livello più avanzato e mi sento di consigliare a tutti la partecipazione a questo corso.